Sei in forma oggi? Certo. Dove andiamo? Andiamo al mare. Andiamo al mare, facciamo questo sentiero qui che abbiamo fatto anche l'altra volta per, che porta questo a Zezzigiola e anche a quell'altra spiaggia, a un'altra spiaggia, ne proviamo uno. Portal de Beach, guarda. De Beach? Com'è scritto? Eh vabbè sì, porta giù a delle spiagge. Speriamo che sia carina questa caletta. E sotto mettiamo il percorso Relieve, dove bisogna andare. Spiaggioni. Possibile presenza di naturisti. Vabbè ma l'ha scritto col penarello, che c'entra? E certo. E si passa giù di qua? Sì. La prima deviazione che abbiamo incontrato. Dai, proviamo ad andare giù di qua. Ma dove ti vuoi rampicare? Ho una foto qui. Ma che foto sta buona che ti fai male? Eccola eh. Guarda che sotto c'è il precipice, non ti mettere troppo. Sta ferma lì. Buona, io ti provo. No, da qui che si vede là. No, deve venire qui che si vede il mare dietro. Guarda dopo la foto. Cosa sei a guardare? Ah, bello, bello. Bello. Giù c'è Porto Venere, la Palmaria e qua dietro c'è una bella spiaggia enorme. Si scende giù con delle corde. Proviamo ad andare a quella o proviamo ad andare più avanti a vedere se c'è un'altra spiaggia più avanti, eh? Cosa dici? Va bene. Guardate qua. Sì, bene. Sono tutti sdragliati. Andiamo anche noi. Dove vuoi passare? Mi ha fatto lì a Porto. No, scendi dove vuoi scendere? A destra o a sinistra? Decidi dove vuoi passare. Bene. Serve la fune lì. Pezzettini. A modo, eh? con il segno eh 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 eh. Be'euh eh 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 eh. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti